C'è una storia che in Italia abbiamo visto veramente da vicino, che è quella di una persona che tra l'altro tu conosci che si chiama Adriano. Allora lui per me è un fenomeno, un fenomeno in tutti i sensi, ma anche fuori dal campo. Ti dico perché, che tutti dicono che lui si droga, che lui esce di qua di là con me, con gli altri amici che siamo stati insieme, non l'ha mai usato droga, mai, mai. Beveva tanto, beveva, bevevo anch'io, però nessuno lo sa vedere cosa ha dentro Adriano. Adriano è un ragazzo essessionale, lui è stato male dopo che è morto il suo padre, normale che lui si sfogava a bere. Era da solo, mancava il Brasile, mancava la sua famiglia e adesso secondo me ha trovato la felicità, quello che mancava lui qua. Vedo che è sempre contento, è sempre felice, si diverte. Io sono contento per lui.